Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, buona domenica, benvenuti in questa rassegna stampa che ogni settimana vi tiene informati sul mondo della mobilità elettrica e tutto ciò che vi gira attorno. Cominciamo alla grande parlando di nuovissimi prototipi su strada, stiamo parlando di due nuove Maserati 100% elettriche Gran Turismo e Folgore che si sono mostrate al Nürburgring durante una sessione veloce, come voler dimostrare che ci sono anche loro. I tempi calcolati a spanne sono di circa 7 minuti e 59 secondi a giro, quindi un ottimo risultato per una Gran Turismo. Vi ricordate che Porsche Taycan aveva sfidato Model S sul giro? Ecco, se la prendiamo come riferimento la Maserati ha completato il giro in circa 17 secondi in meno. Niente male quindi. E da proposito di auto veloci, anzi velocissime, dobbiamo parlare di Tesla che dopo il tanto chiacchierare della scorsa settimana, quando abbiamo visto una Model S Play da arrivare di nascosto a peschiera Borromeo, è notizia fresca fresca che Tesla Model S e Model X, revisione Palladium, sono ora disponibili all'acquisto anche in Italia, ai prezzi rispettivi di 141.979 euro e 145.979 euro. Una bella cifretta, insomma. Parlando invece di auto che costano decisamente meno, ma comunque molto interessanti, salta all'occhio la cinese Byte Seal, che ha riscosso un forte successo. Ha già raggiunto 60.000 preordini e 22.000 di queste solo nelle prime ore. Seal sarà disponibile in due versioni, da 61-83 kWh, l'inverted interno sarà capace di erogare fino a 380 kW, quindi 510 cavalli. Le batterie saranno cell-to-body, dette anche strutturali, e di tipo esagonale, così da potersi incastrare perfettamente e risolvere così il problema dello spazio. Il prezzo di partenza sarà di 30.000 euro per la versione più piccola, da 61 kWh, o di 41.000 per la versione diciamo long range. Attualmente la capacità produttiva di Byte per questo modello sarà di 60.000 auto all'anno, quindi un po' pochine. Speriamo che abbiano un boom di vendite e decidano di portarle anche in Europa al più presto. Io la repito un'auto decisamente interessante. Voi cosa ne dite? E a proposito di auto interessanti, Hyundai ha affermato di essere al lavoro su una city car completamente elettrica ed estremamente economica. Si parla di prezzi sotto i 20.000 euro, quindi potrebbe portare la mobilità elettrica veramente a tutti, o almeno a molte più persone. Probabilmente questa nuova auto sarà una versione batterizzata di una i10 ed entrerà in competizione diretta con Renault Twingo, Odacia Spring e forse anche Renault Zoe. Tutto dipenderà da quanta qualità metterà in gioco Hyundai. La buona riuscita al progetto è sicuramente subordinata all'autonomia che avrà quest'auto. La Spring ad esempio si aggira tranquillamente sui 270, Zoe 350, ma per ora non sappiamo ancora nulla. Ma se dovesse ripetere il successo che ha avuto con Kona, beh, Hyundai potrebbe veramente fare tante tante vendite. Oggi siamo partiti parlando di auto elettriche costosissime ed è un po' un trend ormai, non è vero? Ecco, per fortuna ci sono anche notizie di auto meno costose, come ad esempio la Dongfeng Nanobox. Ti ricorda qualcosa? Esatto, è l'ennesima copia di Dacia Spring. La conosciamo in tutte le salse ormai, ma questa versione rivisitata di Dongfeng presenta una griglia anteriore, a mio parere, molto più bella. Dei cerchi in lega, finiture esterne verniciate bianche e degli interni rinnovati con un accento decisamente più tech delle altre versioni. Infatti la Nanobox presenta due nuovi schermi, uno centrale da 10 pollici per la gestione del sistema di infotainment e uno da 7 pollici per il quadro strumenti. Ma la grande novità ragazzi sta nel prezzo perché in Cina attualmente è di soli 9500 euro. I dati tecnici sono sempre gli stessi di Dacia Spring, convincenti sicuramente, tanto che ne hanno vendute veramente tantissime. Io l'ho provata tempo fa e sono riuscito appunto, come dicevo prima, a farci 270 km senza alcun problema. Se non avete visto il video andate a cercarvelo nel mio canale. E continuando sempre a parlare di auto cinesi, questa volta in Olanda però, è stata avvistata una nuova Xpeng, ma nuova solamente per l'Europa. Infatti il SUV Xpeng G9 esiste già da un po', è lungo 4,80 m, un prezzo di listino a partire da meno di 70.000 euro e sarà disponibile in due versioni. Long range, con motore singolo posteriore da 313 cavalli, pacco batteria da 96 kWh e 702 km di autonomia totale. E la versione veloce, la Performance, con due motori in grado di erogare ben 551 cavalli, stesso pacco batteria, ma autonomia inferiore, circa 650 km. Ovviamente ragazzi, ciclo NEDC. Ma è sempre, sapete, decisamente ottimistico l'NEDC, ancora più ottimistico del VLTP. Quindi facendo un rapido calcolo, i 700 km di autonomia in NEDC vogliono dire più o meno 600 km in VLTP, che nella vita reale più o meno scendono ancora a spanne sui 500. Non è comunque malissimo, ma chiaramente non si può fare meglio con un SUV di quelle dimensioni e sicuramente non con quel coefficiente di penetrazione dell'aria. Mi sono sempre chiesto, ma queste cinesi, una volta arrivate in Italia, come ci si comporta con la garanzia e la manutenzione ordinaria e straordinaria? Beh, se c'è dietro un importante e serio gruppo tipo Kulliker, non c'è problema, ma per il resto non saprei. E bisogna sempre stare attenti a cosa si compra e fare le giuste domande. Per ogni evenienza però ragazzi sappiate che ormai c'è da tempo carrozzeria Musesti, l'unico body shop ufficiale di Brescia, che non vi fa perdere la garanzia quando portate la vostra auto. Io l'ho sfruttato talmente tante volte ormai che ci conosciamo bene e vi assicuro che se ne avrete bisogno la vostra auto elettrica e anche termica, perché no, sarà in buonissime mani. Oltretutto hanno convenzioni con le assicurazioni così da abbassare o anche annullare la franchigia e vi forniranno un'auto sostitutiva. E altra cosa che mi piace tantissimo, a parte il fatto che sono veramente professionali ed economici, è che sono ad impatto praticamente zero. Tutta l'attrezzatura, i forni, i computer, eccetera, sono alimentati dai pannelli solari sul tetto e dalle batterie di accumulo pronte ad entrare in azione in caso di sovraccarico. Quindi se vi deciderete di fargli visita, mi raccomando, dite che vi manda Matteo Valenza. Ma prima di ricominciare a parlare di nuove auto elettriche vorrei parlarvi di NIO, perché sembra essere pronta a mettere sul mercato delle nuove batterie molto innovative e probabilmente rimarranno sulla cresta dell'onda per almeno qualche anno. E dopo essere stata rifiutata da Cuttle, alla quale NIO ha chiesto udienza per acquistare le sue batterie, NIO ha deciso di rivolgersi alla start-up Willion, con sede a Pechino, che ha sviluppato una batteria con elettrolita allo stato solido, con un adono composito al silicio e catodo ad alto tenore di nickel, da cui deriva la lunga autonomia con una carica. E quindi nata a una batteria ibrida, solido-liquido, con una densità energetica di 360 wattora al chilogrammo, la più alta in assoluto mai registrata fino ad oggi, neanche le famosissime batterie di Tesla riusciranno nell'intento di contrastarle. Ah, e cosa fondamentale, non arriveranno nel 2000 mai, entreranno in produzione di massa nel quarto trimestre di quest'anno. Fonti vicine al produttore hanno rivelato che la produzione della batteria allo stato semisolido è stata solo leggermente più costosa rispetto alle batterie liquide prodotte finora, il che fa ben sperare per la fase di produzione di massa. Ma non sono i soli, ci sono anche altri tre produttori di batterie che si sono concentrati sullo sviluppo di batterie di questo genere, tra i quali Gangfeng Lithium, il principale raffinatore del paese, che è riuscito persino a consegnare la propria soluzione a una flotta di taxi per testarla in scenari reali, ma di cui però non abbiamo più saputo nulla. La densità energetica dei competitor tuttavia però non è niente di eccezionale, mentre il pacco batterie da 150 kWh di Nioh, che presto verrà montato sulle berline ET5 ed ET7, offrirà un rapporto autonomia-prestazioni senza precedenti, potendo al contempo godere di alcuni dei vantaggi di durata delle batterie allo stato solido, che quindi dureranno più a lungo, costeranno un pochino meno, saranno più sicure e potranno ricaricarsi più velocemente. Uno sballo quindi. Ah, e cosa veramente importante? Chi avrà una ET5 o una ET7 potrà approfittare della tecnologia swap delle batterie e quindi, se avrete comprato una ET5 con batteria da 75 kWh, potrete tranquillamente swappare con una da 150 kWh di nuova generazione. Probabilmente cambierà solo il livello di abbonamento. Continuo a pensare che swappare le batterie sia meglio di doverle ricaricare. Voi cosa ne pensate? Ma continuiamo con i nostri bei prototipi, perché non è ancora finita per oggi. Parliamo di Zem, un'auto sviluppata da un team dell'Università di Eindhoven. Queste ragazze e ragazzi hanno studiato e prodotto un'elettrica in grado di raccogliere CO2 semplicemente guidandola. Funziona grazie a dei filtri particolari montati in dei condotti dell'area sull'anteriore. Può non sembrare molto, ma Zem è in grado di raccogliere circa 2 kg di CO2 ogni 20.000 km percorsi. Questo dato è stato ricavato ad una velocità di circa 60 km orari per emulare un circuito urbano. Diciamo che non è molto, ma ok. Ci vorrebbero milioni di auto circolanti per ridurre sensibilmente la CO2. È vero, ma se per sbaglio questa tecnologia fosse adottata largamente da tutti i produttori, forse il pianeta potrebbe avere una possibilità di sopravvivenza. O no? E a proposito di auto che possano cambiare il mondo, ecco che Sono ha ufficializzato l'ennesima versione di Sion, l'auto alimentata con pannelli solari. Ed anche questa volta i cambiamenti sono pochi, design dai fari leggermente diverso, retrocamera, interni migliorati e qualche pannello su qualche superficie in più. In questa versione Sion sarà in grado di ricaricare una media di 112 km a settimana in Europa, oppure 250 km in condizioni perfette, tutto grazie ai pannelli montati sull'auto. I dati tecnici sono gli stessi di una volta, quindi pacco batteria da 54 kWh, che ora è LFP, ed è in grado di essere ricaricato fino a 75 kW in DC, oppure 11 in AC. Il motore eroga 160 CV ed ha una velocità massima di 140 km orari, tutto dovrebbe aggirarsi attorno ai 31.000 euro e non sarebbe male, quindi speriamo che effettivamente arrivi. E a proposito di novità, vi ricordate le voci che giravano mesi fa su due nuovi colori per Tesla Model Y prodotti direttamente da Berlino? Beh, qualche giorno fa, fuori dalla Giga Berlin, è stata avvistata in un parcheggio pieno di Model Y, un modello con un colore particolarmente diverso da tutti gli altri. Questo che potete vedere in foto sarà il nuovo rosso, chiamato Rosso Cremisi, ma arriveranno in futuro anche Blu Abisso e Grigio Mercurio. Ma al momento non siamo ancora pronti, questa Model Y Cremisi, che non so se sia stata chiamata così in onore del personaggio morto male in The Boys, se ne andrà negli USA, dove verrà valutata ed eventualmente poi deciso se produrla in serie. E sempre parlando di Tesla, al Supercharger DNC in Germania, ha installato in collaborazione con BK World delle lounge composte da cubi prefabbricati chiamati Cube. All'interno di questi spazi abitativi e climatizzati ci sono servizi igienici, bar, macchinette per mangiare o bere, spazi di lavoro oppure spazi di gioco con diverse console, tra cui anche una Nintendo Switch. Ah, e dulcis in fondo, è presente anche una macchina automatica con forno integrato per fare la pizza. Ma che figo! Ah, è giusto per noi italiani accaldati, Tesla ha pensato invece ad un bel gelato. A partire infatti da ieri, 6 agosto, e fino al 29 agosto, al Tesla Supercharger di Mogliano Veneto ci sarà un Ice Cream Trailer ad attendervi. Il gelato ovviamente sarà in omaggio. Il team di Tesla che sta dietro il Supercharger si sta impegnando veramente molto e devo dire che forse è la divisione più interessante dell'azienda che lavora dietro le quinte e ha permesso a Tesla Motors di diventare l'automaker leader della mobilità elettrica, perché senza colonnine non si va da nessuna parte, neanche in ferie. E anche io non vado in ferie quest'estate, ma sto lavorando ad un progetto super potente e super interessante che vi renderà molto fieri di me. Ve ne parlerò i primi di settembre, segnatevi questa data. Giovedì 1 settembre 2022, ore 21, vi svelerò il mio grande progetto. E a causa di questo impegno, che mi sta tenendo sveglio la notte fino anche alle 4, a volte non credo riuscirò a portarvi sempre 3 video a settimana. Quindi portate pazienza, le news rimarranno sempre fedeli domenica alle 10, ma gli altri due video, beh, forse sì, forse no. Si prenderanno una pausa, ma solo durante il mese di agosto ovviamente. Così facciamo finta anche che sono andato in ferie. Potete dire Madenza in ferie, certo. E quindi è tutto per oggi, ci vediamo in live questa sera alle 21, come tutte le domeniche. Ciao elettronauti, a presto. E notizia fresca fresca che Tesla Model S e Model X, revisione Palladium, sono ora disponibili all'acquisto anche in Italia, ai prezzi rispettivi di 141.979 euro e 141... Eh, amò, cacchio non mi viene 145 oggi. Vabbè, rifaccio. Sì, con calma, beviamo l'acqua. Io la reputo un'auto decisamente interessante. Voi? No. Io la repito... Aolem! La repito? Decisamente interessante. Certo. La densità energetica dei competitor, dei competitor, sì, matador, il matador, vabbè. Ah... Grazie. Grazie.